Alia Educational presenta Chambermade 7800 e la carta sporca Chambermade 7800, la cameriera robot, si dedica alla sua specialità ma sta per commettere un piccolo errore strofinare gettare carta da assorbente nella carta carta da assorbente nella carta la carta imbevuta di detergente o sporca non può essere gettata nel contenitore della carta la carta imbevuta di detergente non può essere riciclata e quindi va gettata nel residuo non differenziabile grazie, modalità rifiuto impostata carta assorbente usata nel residuo quando si leva dalle scatole la signorina